e qui siamo in piazza c'è lucio che passeggia a che ore so lucio le sei quasi le 18 quindi e siamo in piazza vedete poca gente uno che esce dalla pizzeria poi c'è lucio che passeggia sotto cellulare scatta qualche foto vedete si sta posando da poco la neve a terra sui tetti già da molto tempo anche le scale come vedete non è tanta ma abbastanza per rendere il paesaggio bello candido scenografico pittoresco oggi domenica 17 gennaio 2016 sono le 18 circa a Sant'Agata di Puglia provincia di Foggia Gino Magnisio che vi saluta andiamo dentro la neve ciao ciao a tutti